Il progetto di formazione research realizzato dalla responsabile danza di XA in Calabria, Erika Spaltro, e basato sulla danza contemporanea, ha visto alternarsi nel corso dei mesi alcuni dei principali direttori di compagnie di danza in campo nazionale ed europeo, nell'ambito di un percorso di alta formazione che ha coinvolto una decina di danzatori provenienti da diverse parti d'Italia. L'ultimo maestro in ordine di tempo chiamato a raccontare e a portare in scena la sua idea di arte è stato Roberto Altamura, fondatore e direttore artistico del Milano City Ballet. Altamura ha coinvolto i ragazzi in un lavoro plurilaterale, in piedi ma anche a terra, approfondendo il concetto di floor work, ovvero il lavoro sul pavimento, e di partnering a coppia. Alla base del suo stile c'è il concetto di fluidità, una profonda consapevolezza del movimento abbinato alla respirazione, la gestione dello spazio con il controllo di sé e del proprio corpo. È un corso di formazione, quindi ci sono tantissimi dettagli da costruire, lavorare, tantissimi momenti che si possono utilizzare per lavorare al meglio quello che può essere la costruzione della loro tecnica, della performance nel momento in cui si muovono, però devo dire in linea generale veramente molto bene. Il progetto continuerà nei prossimi mesi portando in Calabria nomi altisonanti della danza contemporanea e si concluderà con un saggio finale.